Sì, segno del sagittario, sempre in grande spolvero, devo dire, in questo periodo. Voi che siete un po' allergici a quelle che sono le regole, le imposizioni, alla routine, avete bisogno sempre di fare qualcosa di nuovo, di diverso, eppure in questa giornata sarete allegri e contenti anche di svolgere le vostre normali mansioni, quelle quotidiane. C'è una bella luna vicina a Mercurio, in transito proprio lì nel segno del toro, che per voi ha a che fare un po' con la normalità, con la routine, con il lavoro quotidiano, quello di tutti i giorni. Metterete un pizzico di genialità, un pizzico di originalità, anche nelle cose più banali. E devo dire che questo rimane sempre un periodo estremamente eccitante, soprattutto per i più giovani, che sono alla ricerca di nuove esperienze sentimentali, anche in questa giornata, nelle situazioni più impensabili può scapparci un incontro importante.